Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ritorniamo a parlare di Liquid Flora. Io ho già parlato di Liquid Flora nel video specificamente dedicato a questa azienda di qualche settimana fa, in cui ho fatto una panoramica di tutto il make-up che possiedo di questa azienda, come ho fatto anche per gli altri marchi di cui ho parlato. Oggi però volevo parlarvi di un'interessante iniziativa che ha fatto recentemente Liquid Flora, vale a dire una promozione. Liquid Flora, forse una decina di giorni fa, ha messo in vendita per qualche tempo, forse una settimana, non ricordo con esattezza, due kit occhi a prezzo super scontato. I due kit occhi prevedevano sei ombretti e quattro matite. Uno era dedicato ai toni caldi e uno era dedicato ai toni freddi. I due kit occhi si chiamavano Sun, sole, per quello caldo, e Moon, luna, per quello freddo. Io, naturalmente, dei due ho preso il kit occhi freddo, che si chiamava Moon Selection, erano Sun Selection e Moon Selection. Appunto, ciascuno conteneva sei ombretti e quattro matite, tutte dai toni appunto abbastanza complementari tra di loro, quindi o a sottotono neutro freddo o a sottotono neutro caldo. La cosa interessante anche a livello di ingredienti di questi prodotti, io ho già parlato del fatto di come Liquid Flora sia un'azienda molto attenta al lato curativo dei suoi prodotti, e già ne ho parlato ampiamente nel video dedicato proprio a Liquid Flora, però questi prodotti derivano da una loro tecnica che si chiama gemmoterapia. La gemmoterapia, mi sono segnata a grandi linee di cosa si tratta, è una tecnica appunto utilizzata dai laboratori Liquid Flora, che praticamente nella formulazione dei prodotti sfrutta le proprietà derivanti dagli estratti di germogli e boccioli freschi per realizzare i loro prodotti, proprietà che proteggono la pelle sia dai danni ambientali sia appunto dagli influssi esterni in generale e favoriscono il rinnovamento della pelle, il rinnovamento epidermico. Oggi vi mostro il Kitoki Moon Selection. Sono sei colori molto interessanti, partiamo dagli ombretti, eccoli qui. Dunque, partiamo dal, sono diciamo sei colori che vanno a formare una palette, una piccola palette quasi completa, perché troviamo sia colori chiari, compreso appunto un illuminante d'angolo interno dell'occhio, sia colori più scuri. e partiamo dal, c'è questo bel grigio, che sarebbe l'ombretto numero due, Grey Flannel, si chiama, un grigio opaco, molto bello, poi abbiamo il numero cinque Blue Stars, il numero sei Violet Radiance, il numero sette White Silver, che appunto è il, un colore, color ghiaccio, somiglia un po' proprio a ghiaccio di Neve Cosmetics, forse leggermente più attenuato, quello è ancora più luminoso, però insomma è luminoso anche questo. Poi abbiamo l'undici Radiance Lilac, questo lilla chiaro, sono tutti opachi, tranne il bianco e il White Silver, mi sembrano tutti opachi, e l'ultimo è il numero quattordici Velvet Purple, un, appunto, un color viola molto smorzato, molto bello. E questi appunto, io sto indossando il trucco di oggi, l'ho fatto appunto con questi ombretti e una delle matite, ho utilizzato, parliamo prima delle matite e poi vi dirò cosa ho utilizzato per il make-up. Le quattro matite abbinate a questi sei ombretti dai toni appunto neutro freddi sono la numero due Flannel Intense, che è una matita grigia, poi abbiamo la numero tre Brown Wood, che è un marrone, marrone molto scuro, poi abbiamo la numero cinque Blue Sea, questa, questo blu, è un blu oltre mare, è un blu quasi, così scuro che sembra quasi nero, veramente bello, poi però sfumandolo si vede che non è nero, ovviamente, così a prima vista può sembrare nero per quanto è scuro, e l'ultima è la 06 Violet Intense, un viola, anche questo molto scuro, entrambi virano molto al nero, questi ultimi due colori, e vabbè qui c'è anche la nera, non è qualche l'ho utilizzata per il trucco, insieme a questi altri prodotti che adesso vi dico, però appunto sta qui per caso, nel senso non faceva parte del kit, il kit comprendeva appunto i sei ombretti, e le quattro matite, ovviamente non posso farvi vedere i prodotti del kit Sun Selection, perché non l'ho preso, essendo toni caldi, che io non porto nella maggior parte dei casi, faccio qualche eccezione per gli ombretti, ma in genere non acquisto colori di ombretti particolarmente caldi, spiccatamente caldi come appunto quelli del kit Sun, dunque, nel trucco di oggi ho utilizzato tre ombretti e una matita, i tre ombretti che ho utilizzato sono il grey flannel, praticamente, che l'ho messo un po' come sfondo nella piega dell'occhio, e poi ho usato soprattutto il colore protagonista, è il bellissimo Blue Stars, che è il blue che ho utilizzato sulla palpebra mobile, andandolo poi a degradare nel grigio appunto della piega, e dopodiché ho usato nell'angolo interno white silver, come ho già detto, e come matita ho utilizzato ovviamente la Blue Sea, la numero 5, questa, l'ho messa sia sfumata sopra l'attaccatura delle ciglia, sia sfumata sotto l'attaccatura delle ciglia, fissandola un po' con il rispettivo ombretto Blue Stars, poi ho messo nella rima interna dell'occhio la matita nera, e poi l'ho aggiunta anche un po', ho fatto un po' di giusto infraciliare, per non lasciare soltanto il blu, perché io senza il nero, senza il nero almeno come infraciliare, non mi vedo, diciamo, e niente, questi sono i prodotti che ho utilizzato, adesso vi dirò cosa ne penso, e questi ombretti hanno una scrivenza abbastanza accentuata, ce ne sono di più scriventi, però per essere opachi sono abbastanza, scrivono abbastanza e durano anche abbastanza, quindi diciamo, personalmente trovo gli ombretti di neve alchemilla un po' più duraturi e più scriventi, più pigmentati, però questi comunque sono accettabili da quel punto di vista, la durata è molto appunto molto buona anche di questi, l'abbinamento con le rispettive quattro matite è veramente azzeccatissimo, perché sono tutti colori abbinabili perfettamente l'uno con l'altro, per il trucco occhi, senza assolutamente andare a cozzare l'uno con l'altro, le quattro matite rispetto alla nera, che è la loro meravigliosa matita Black Shadows, che è la 01 nera tipica di Liquid Flora, queste quattro sono meno morbide, l'unica cosa non negativa assolutamente, però sono formulate in modo diverso, risultano leggermente più dure di questa nera, che questa nera è proprio perfetta, sia per essere usata come cajall nella rima interna, sia per essere sfumata sopra l'attaccatura delle ciglia o sotto, perché è veramente morbida, senza però risultare, senza sbavare assolutamente, queste sono leggermente più dure, quindi assolutamente non sono adatte per essere usate come cajall nella rima interna, non è un uso per queste matite, però come matite normali occhi sopra o sotto l'attaccatura delle ciglia vanno bene, si sfumano abbastanza bene, proprio perché sono un po' dure rispetto a questa nera, non si sfumano proprio facilmente, però unendo diciamo un po' di ombretto, fissandole un po' con l'ombretto e sfumandole con l'ombretto, alla fine il risultato comunque si ottiene. Diciamo che questa è stata una promo molto allettante, che io non mi sono fatta sfuggire, quando ho letto appunto kit toni caldi e kit toni freddi, perché costavano, se non sbaglio il kit veniva scontatissimo, 39 euro, tutti e 6 gli ombretti e le 4 matite, e il prezzo non scontato sarebbe stato altrimenti sui 70-80 euro, hanno fatto proprio una super promo. E niente, tutto qua. Io volevo parlarvi di questa iniziativa di Liquid Flora, perché ci tengo sempre a parlare di questa azienda, che è molto seria e molto attenta alle formulazioni dei prodotti. Spero di avervi interessato e di far avvicinare qualcuno a questa fantastica azienda. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Un bacio!